Anas ha replicato la regione siciliana per l'ennesimo attacco ingiustificato e privo di rispondenza, dice, ai fatti irreali. L'attacco, peraltro, risulta sorprendente alla luce della costantazione informativa che Anas dedica alla regione su tutte le attività aziendali nell'isola e sulle criticità che gestisce quotidianamente con grande impegno ed elencato quanto ha fatto negli ultimi anni, e cioè triplicata la produzione di manutenzione programmata dal 2017 ad oggi, ultimati decine di cantieri per ripristine e messi in sicurezza di ponti, viadotti e gallerie. Sulla 19, 154 operai al lavoro. Sottolinea che il viadotto Imera fu danneggiato a causa di un movimento franoso che la regione avrebbe dovuto monitorare. Anas lavora in procedura ordinaria per ricostruirlo. Ma sentiamoli accusa il presidente della regione dell'assessore alle infrastrutture. Un vero e proprio fallimento. Abbiamo atteso due anni e mezzo, ma se le opere pubbliche, se i cantieri rimangono fermi, se per tirare su il pilone del ponte Imera non bastano cinque anni, mentre a Genova in un anno il ponte Merandimo può essere ricostruito, è chiaro che c'è qualcosa che non funziona. Noi non siamo più disposti ad accettare questo atteggiamento. Con l'assessore Falcone e con la Giunta abbiamo promosso un'azione legale. Il 15 giugno formalizzeremo la richiesta di danni, danno d'immagine e danno economico. Sicuramente colpevolmente inadempiente l'Anas nei confronti della Sicilia, di questo meraviglioso territorio, avrebbe potuto fare molto di più. 2 miliardi e 200 milioni nelle sue casse che rimangono ancora bloccate. Da 10, forse da 15 o addirittura da 18 anni, una per tutte. La circonvaluazione di Gela venne finanziata nel 2003, 300 milioni di euro. Il primo progetto del 2005, ancora a distanza di 15 anni da quello lontano, 2005, abbiamo appena un progetto definitivo. Ma potremmo continuare con la Mazzara Marsala, potremmo continuare con la Catania Gela che è soltanto una chimera. E così come tante altre, l'Agrigento Palermo o la Caltanissetta Agrigento, i cui lavori rimangono bloccati ancora al settembre 2018. Mangono ancora 150 milioni di euro da spendere e nulla si muove. E l'impresa che dovrebbe essere cacciata invece ancora rimane ancorata al lavoro e con il lavoro tutto bloccato. Ecco perché è diventato assolutamente insopportabile, ecco perché il presidente Musumeci e il suo governo abbiamo deciso di fare un'avvertenza per chiedere da un lato un risarcimento d'anni, ma dall'altro lato chiediamo al governo nazionale di darci la responsabilità di queste opere, di dieci opere di cui chiediamo il commissariamento, perché sia il governo dei siciliani a realizzare tutte queste iniziative di opere pubbliche che diventano strategiche per la nostra economia e il nostro sviluppo. Grazie. 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 Grazie.